ragazzi qui ci sarà anche se non vedo qui il recorder mobis and biva perchè dico sempre così faccio schifo pacchetti poi mi dovete scrivere qui sotto qui sotto i commenti toby è vero perchè io non lo so se è vero o no ragazzi oggi abbiamo buttato il gioco di bocchetti sapete che lo do un piccoletto piccoletto non fumo non esagerare però ma che buono adesso che c'è il pelo nuovo è gasato non c'è nessuno 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 prima non c'è un duc tipo così non c'è un duc non c'è un duc non c'è un duc non c'è un duc manca tutto non c'è un duc ma c'è un duc non 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 c'è un duc anche se questo è un po' scarsino non c'è un duc 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 c'è ancora il numero 4 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 c'è ancora il numero 4